Covid-19 in Sicilia, 198 nuovi contagi, due i migranti, sette contagi a Siracusa. In Sicilia, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono 198 i nuovi positivi, fra questi due sono i migranti. La provincia più colpita resta Palermo, non aumentano di molto i ricoverati che passano tra 389 e 396 stabili pazienti in terapia intensiva, 28 in tutta l'isola. I nuovi casi sono così distribuiti, Palermo 72, Catania 51, Trapani 28, Caltani 715, Agrigento 12, Ragusa 8, Siracusa 7, Messina 5, nessuno a Enna. Buono il dato dei guariti, 107 ma si registra un nuovo decesso. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 6.754. Intanto c'è attesa per le decisioni che assumerà il Consiglio dei Ministri in merito alle nuove misure anti-Covid-19, molte delle quali già risultate essere inutili o dannose all'economia reale. Un nuovo bollettino riporta l'attenzione sui numeri del contagio vero o asintomatico. Apprensione per la seconda zona rossa nel Palermitano, ovvero Villafrati, tornata ad essere tale dopo l'incubo del lockdown, sono salite 85 positive e 17 nei paesi dell'Interland. Sono i dati che sono stati comunicati dall'ASP di Palermo.